Il percorso del giovane ricco va dalla gioia e la speranza, la tristezza e la chiusura di se stesso, perché si fa vincere dall'attaccamento ai suoi beni. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, commentando il famoso brano evangelico dell'incontro di Gesù con il giovane ricco. Così il giovane prima chiede di seguire Gesù, poi quando il maestro gli comunica che deve vendere i suoi beni e darli ai poveri, gioia e speranza svaniscono. L'attaccamento alle ricchezze è l'inizio di ogni genere di corruzione, dappertutto. Corruzione personale, corruzione negli affari, anche la piccola corruzione commerciale di quelli che togli 50 etti al peso giusto. corruzione politica, corruzione nell'educazione. Perché? Perché quelli che vivono attaccati al proprio potere, alle proprie ricchezze, si credono nel paradiso. Sono chiusi. Non hanno orizzonte, non hanno speranza. E alla fine dovranno lasciare tutto. La prima beatitudine. Beati i poveri in spirito. Cioè spogliarsi di questo attaccamento e fare che le ricchezze che il Signore ha dato siano per il bene comune. l'unica maniera. Aprire la mano, aprire il cuore, aprire gli orizzonti. Ma se tu hai la mano chiusa, hai il cuore così chiuso, come quell'uomo che faceva i banchetti e indossava vesti lusossi, non hai orizzonti. Non vedi gli altri che hanno bisogno. E finirai come quell'uomo. Lontano da Dio. E finirai come quelli che sono fottili. Si, boll'uomo è un'altra. Non vedi le ricche.